Musica Apertura dal telegiornale bentrovati che oggi dedichiamo alla protesta silenziosa che si è registrata ieri mattina dinanzi al teatro comunale Eschilo dove si svolgeva la conferenza promossa da sviluppo democratico progetto comune su città metropolitana di Catania scelta strategica per lo sviluppo di Gela esposti striscioni in merito alla mancanza di lavoro e al dramma dei tumori e delle malformazioni c'erano anche le mogli degli ex operai dell'indotto si aspettava il governatore della Sicilia Rosario Crocetta l'attesa però è stata vana Gela una città che non offre più occupazione e vive il dramma di tumori e malformazioni una grazie alla regione e allo Stato non siamo invisibili e non perdiamo la speranza lavoro, lavoro, dignità per tutti, la crisi è di tutti sono solo alcuni degli striscioni che ieri sono stati portati dinanzi al teatro comunale Eschilo di Gela da chi è perso il lavoro, da chi vuole risposte immediate e concrete, dalle istituzioni, dalle mogli degli ex operai da chi si sente abbandonato una protesta silenziosa loro volevano che quegli striscioni venissero letti dal presidente della regione il gelese Rosario Crocetta atteso proprio in teatro dove era in programma la conferenza promossa da sviluppo democratico progetto comune su città metropolitana di Catania, scelta strategica per lo sviluppo di Gela ma il governatore non si è presentato noi ci interessa solamente lavorare in città, lavorare ovunque non è che noi cerchiamo di lavorare solamente in raffineria, ci mancherebbe il problema è nostro sì, però il problema è di tutta la città, non è solamente noi lavoratori dell'indotto noi siamo stati presi in giro dalla politica perché il punto è che il Gela ormai sta sprofondando sempre di più la gente non lavora, la gente sta morendo di fame la gente ha muti da pagare, ha tasse da pagare però tutto quello che sta succedendo qua è una cosa molto anomala perché il lavoro sta mancando e la gente inizia a soffrire e nello stesso tempo speriamo che non succeda qualcosa di brutto nei confronti di quella gente che soffre perché è una cosa molto drammatica Liliana Bellardita, portavoce del Comitato Giolensis Populus interviene in merito alla migrazione di Gela, Piazza Medina e Niscemi a Catania Abbiamo perso le speranze perché ci rendiamo conto semplicemente del fatto che le parole si sprecano ma con i fatti siamo all'anno zero la vicenda dei liberi consorsi e delle città metropolitane è una vicenda che ormai nasce nel lontano 2014 e siamo nel 2017 e ancora si ha il coraggio di organizzare convegni senza in realtà studiare invece una strategia che possa essere o di natura politica o di natura giudiziaria per vedere finalmente la fine di questa vicenda E dentro al teatro comunale Schiloi i sindaci di Vigela, Piazza Medina e Niscemi hanno scritto una lettera al capo dello Stato chiedendo di intervenire sull'impasse del voto legislativo all'Assemblea regionale siciliana che riguarda il passaggio dei tre comuni alla città metropolitana di Catania presente ieri tra gli altri anche il primo cittadino etneo Enzo Bianco Hanno scritto una lettera al capo dello Stato Sergio Mazzarella chiedendo di intervenire sull'impasse del voto legislativo all'Assemblea regionale siciliana che riguarda il passaggio di Gela, Piazza Medina e Niscemi alla città metropolitana di Catania loro sono i sindaci Domenico Messinese, Filippo Mirodi e Francesco Larosa si aggiungerà anche il sindaco di Licodio Bea che però in un percorso inverso lascia Catania per passare a Ragusa è quanto emerso ieri mattina al convegno organizzato dal Movimento Politico Sviluppo Democratico che si è svolto al Teatro Eschilo La volontà della città di Gela è stata chiara e inequivocabile e quindi come amministratore, come sindaco della città di Gela mi è sembrato giusto e doveroso affidarmi ad un legale per poter far rispettare la volontà dei nostri concittadini Se l'Italia è un paese democratico l'elemento più importante della democrazia è il voto dei cittadini e il voto dei cittadini è stato deciso nei famosi referendum confermativi quindi non si può assolutamente calpestare il diritto che ciascun cittadino di ciascuna comunità ha perpetrato nei referendum confermativi che tra l'altro la Regione, l'ARS, ci aveva chiesto per cui deve essere l'ARS a dare risposte a noi e lo Stato a garantire le scelte di ciascun singolo cittadino e soprattutto il diritto dei cittadini è la politica che deve sistemare il tutto le vie legate ci possono stare, devono esserci però è la politica che deve ritornare a portare la barra dritta Assente il governatore Crocetta c'era l'assessore alle autonomie locali Luisa Lanteri che nel suo intervento ha riferito che se la migrazione dei tre comuni non c'è stata la colpa è della deputazione catanese L'esponente del governo regionale inoltre ha dimostrato un'importante apertura dichiarando la volontà dell'Assemblea di emanare un nuovo disegno di legge ad hoc sulla questione collegandosi al nuovo testo sull'elezione di secondo grado richiesta dalla legge della Rio La Commissione Affari Istituzionali dell'ARS sta infatti preparando un testo che riporta all'elezione diretta del sindaco dell'area metropolitana Ai nostri microfoni Filippo Franzone portavoce del Comitato per lo sviluppo dell'area gelese Questo Parlamento non vuole affrontare questo tema e tra l'altro sposta l'elezione dell'entendermedio dopo le elezioni regionali perché il loro primario interesse è quello delle loro candidature, dei loro bisogni personali potremmo dire a questo punto Bene, adesso si prepareranno per le elezioni regionali vuol dire che Gela, Piazza Armire e Niscemi dovranno necessariamente questa volta fare buon uso del loro voto e dovranno ricordarsi di chi li ha rappresentati all'interno del Parlamento regionale e cosa hanno fatto per questa iniziativa Il sindaco di Catania Enzo Bianco ha riferito di volere coinvolgere il sottosegretario con delega agli affari regionali e le autonomie Giancarlo Bressa per sbloccare la questione rimasta di fatto sospesa nonostante la volontà manifestata dei cittadini al referendum confermativo del 2013 Io rivolgo un appello forte l'appello è quello di mantenere gli impegni che sono stati assunti Sono pronta a parlarne anche al Governo nazionale in conferenza unificata Stato-Città e Stato-Regioni perché anche dal Governo nazionale arriva una pressione legittima per chi deve assumere le decisioni di onorare gli impegni che furono assunti Domenica 19 febbraio prossimo a partire dalle 9.30 presso la sede dell'ex tribunale di Gela in Viale Mediterraneo si darà alla conferenza il pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto, luci ed ombre tra nuove norme e vecchia giurisprudenza Interverranno Salvatore Granvillano coordinatore osservatorio nazionale amianto di Gela il sindaco Domenico Messinese l'onorevole Pippo Gianni medico legale e componente del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale ONA l'avvocato Giuseppe Ventura, consigliere comunale l'avvocato Lucio Greco, legale ONA-Gela Antonino Biundo, pneumologo Sabrina Melpignano, psicologa e componente del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale ONA e Calogero Vicario, coordinatore ONA Sicilia si farà il punto sull'andamento delle diverse iniziative giudiziarie in riferimento al rischio amianto a Gela anche in merito alle recenti modifiche legislative cicli in salute, scuola e famiglia per il Welfare School si tratta dell'iniziativa prevista per mercoledì 15 febbraio alle 10.15 presso l'auditorium dell'Istituto Comprensivo Giovanni Verga di Gela retto da Viviana Aldisio la manifestazione nasce in collaborazione con il Kivanis Club e prevede una serie di convegni sui temi della salute e del benessere dei giovani lunedì è previsto il primo incontro sul tema cyberbullismo la nuova emergenza educativa saranno presenti il dirigente del commissariato di polizia di Gela Francesco Marino il vicequestore aggiunto Domenico De Maio e il pedagogista Giuseppe Raffa hanno condiviso assieme il gesto della donazione del sangue sono le coppie di innamorati gelesi che ieri ed oggi hanno aderito all'iniziativa promossa dalla Fida Sadasi di Gela che festeggia l'amore dedicando ben due giornate a San Valentino i volontari e lo staff sanitario hanno accolto tra cuori e sorrisi coloro i quali hanno deciso di compiere il loro gesto di solidarietà nei giorni dedicati proprio all'amore la Fides Adas ha sempre voluto dare un senso in più a queste ricorrenze alle festività, in questo caso a quella di San Valentino che per Antonomasi è la festa dell'amore, la festa degli innamorati e quale gesto più bello può essere quello di donare se stessi agli altri e di farlo magari in compagnia del proprio partner e quindi suggellare questo sentimento attraverso un gesto così bello quale quello della donazione Alle coppie di innamorati è stato omaggiato un goloso gadget in uno trionfo di dolcezza e tenerezza perché in effetti quali giornate migliori per condividere con chi si ama un gesto così altruista? Questa iniziativa è un'iniziativa molto buona che nel tempo si dovrebbe sempre prolungare perché non è bella iniziativa Un consiglio a chi si vuole avvicinare la donazione? Donate, donate, donate Un bel gesto È una cosa che stiamo ripetendo l'abbiamo già fatto l'anno scorso e siccome ci è piaciuto è stata una cosa anche bella già donare è bello perché già doniamo da tantissimi anni è una cosa che facciamo con amore perché sappiamo a cosa andiamo incontro voglio dire donando sangue a quante persone possiamo essere di aiuto e chiaramente la cosa è reciproca perché semplicemente anche a noi serve per poterci controllare avere tutte le analisi è una cosa bella diciamo Un gesto semplice, un gesto indolore? Indubbiamente, sì è piacevole non dà fastidio e indolore come dice lei senza dubbio Alla presenza del coordinatore Sicilia Emanuele Schivano è stato letto il nuovo direttivo della sezione gelese dell'associazione Pionieri e Veterani Eni Presidente è Giuseppe Lisciandra Vice Presidente è stato nominato Santo Ligeri Tesoriere Mario Giuseppe Ginevra Consiglieri sono Michele Giugno e Michele Cantella Sarà presentato il prossimo giovedì 16 febbraio alle 17 nei locali della libreria Mondadori di Via Marconi a Gela il nuovo libro di Silvana Grasso Solo se c'era l'una uscito il 19 gennaio scorso Una storia di passioni in una sintassi ironica incandescente che si racconta e racconta Nuove regole per il trasporto dei bambini in auto rimane invariata la norma generale articolo 172 del codice della strada sull'uso obbligatorio dei seggiolini fino a 150 cm di altezza la novità principale riguarda le cosiddette alzatine o booster o alza bimbo i seggiolini che in pratica sollevano la seduta del bimbo di qualche centimetro fino a permettere di allacciare la cintura all'altezza adeguata ma che non sono dotati di schienale La nuova norma prevede invece di utilizzare seggiolini con spagliera che tra l'altro risultano più comodi per i bimbi fino a 125 cm di altezza Tuttavia gli automobilisti pur liberi di adeguarsi ai nuovi dispositivi perché garantiscono più sicurezza non sono ancora obbligati a cambiare i vecchi seggiolini così come spiegato dal vicequestore di Caltanissetta Marcello Arcidiacono La norma ha stabilito che è poi una direttiva europea che dal 1 gennaio 2017 per essere omologati questi seggiolini dovranno essere dotati obbligatoriamente di schienale e alzata che sarà diversa da quella attualmente in commercio questo perché si è ritenuto che un miglioramento della sicurezza per quanto riguarda i minori anche per rendere adeguati questi seggiolini ha i sistemi anche di collegamento con la cintura di sicurezza evitare che la cintura di sicurezza sia posta a un'altezza che possa danneggiare il minore e invece sia adeguata perfettamente a quella che è la conformazione fisica del minore stesso che prende posto nell'autovettura naturalmente ciò non significa che i seggiolini attualmente in commercio siano fuori legge non sono regolamenti omologati e vengono obbligate tranquillamente commercializzate dalle varie aziende l'unica cosa chiaramente stiamo parlando di un dispositivo tecnico quindi di un miglioramento della sicurezza sarebbe opportuno ovviamente adeguare anche chi deve dotare o cambiare il proprio seggiolino rivolgersi a questi nuovi manufatti che saranno praticamente in commercio da quest'anno utilizzare i seggiolini universali e omologati sempre e correttamente anche per brevi percorsi rispettando le indicazioni del produttore e guidare con cautela e attenzione sono i consigli per la sicurezza dei passeggeri più piccoli il consiglio della legge è sicuramente quello di rispettare la norma che prevede l'utilizzo di questi dispositivi di ritenuta la cosa essenziale è questa non tollerare non approvare comportamenti che siano contrari a quelle che sono le norme di sicurezza che prevedono l'utilizzo di seggiolini cioè il bambino il minore deve essere tenuto obiettualmente fino all'età prevista sul seggiolino non ci vuole essere deroghe di altro tipo né montaggi non conforme a legge quindi non il classico montaggio del seggiolino sul sedile anteriore questi sono assolutamente sistemi da evitare appuntamento questa sera alle 21 sullo nostro emittente con la trasmissione 10 domande 10 nostro ospite sarà il dirigente scolastico Giacchino per i teri le repliche sono previste alla mezzanotte e domenica prossima alle 18 ed in conclusione della prima parte del nostro telegiornale vi informiamo che da giovedì prossimo canale 10 sarà visibile sul numero LCN 815 e non più sul 612 vi consigliamo dunque da giovedì 16 febbraio di risintonizzare il vostro televisore ci fermiamo lì nella regia per la pubblicità siamo ritornati seconda parte del telegiornale è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale quarta serie speciale del 3 febbraio il bando di concorso per titoli d'esami per la missione di 55 allievi ufficiali del ruolo normale al primo anno del 117 corso dell'Accademia della Guardia di Finanza la domanda di partecipazione va compilata mediante la procedura informatica disponibile sul sito gdf.gov.it area concorsi online entro 30 giorni dalla data di pubblicazione cioè a dire entro il 6 marzo e adesso parliamo di sport calcio parliamo del derby di serie di tra i GVirtus e Gela finito 1 a 1 i biancazzurri del tecnico Pietro Infantino sono riusciti ad impattare grazie al gol realizzato da Candiano un ottimo risultato dopo la sconfitta rimediata la domenica precedente al Vincenzo Presti con il Gragnano vediamo l'IgVirtus non riesce a fare suo il derby siciliano di serie di contro il città di Gela al dal Contres a Barone i giallorossi di Raffaele si fanno impore un pareggio per 1 a 1 dalla formazione di Infantino che costa i locali il secondo posto in classifica adesso a pannaggio della Gavese e li allontana inoltre anche dalla Leonzio Capolista distante ora quattro lunghezze davanti ad una cornice di pubblico delle grandi occasioni i barcelonesi dominano il match per oltre 70 minuti sciupano diverse palle-gole per raddoppiare e alla fine vengono puniti dagli ospiti che a 5 minuti dal novantesimo acciuffano un pari che sembrava ormai sperato nonostante ciò l'IgVirtus parte subito aggressiva e nei primi 7 minuti si rende pericolosa due volte prima con Longo il cui sinistro dal limite si perde di poco alto e poi con una conclusione da fuori aria di Lanza che sfiora il palo alla destra di Saitta i giallorossi spingono ancora e al decimo il vantaggio sembra cosa fatta ma Lescano a porta praticamente spalancata asciupa tutto mandando clamorosamente sul fondo i barcellonesi non si perdono d'animo e al venticinquesimo Lanza serve Esgro che entra in aria e calcia a rete trovando però la deviazione in angolo di Brugaletta gli sforzi dell'IgVirtus vengono premiati comunque al minuto 31 quando Postorino dalla destra serve Lescano che con un perfetto colpo di testa fa secco Saitta portando di fatto in vantaggio i suoi per il bomber italo-argentino si tratta del dodicesimo sigillo in campionato prima dell'intervallo il Gela prova a farsi vedere dalle parti di Inferrera con Schera la cui conclusione acrobatica non inquadra lo specchio della porta nella ripresa l'IgVirtus tenta subito di chiudere conti al 52esimo Esgro raccoglie un suggerimento di Lanza e presentatosi a tu per tu con Saitta asciupa tutto facendosi respingere la conclusione dal portiere i barcellonesi spingono il piede sull'acceleratore al minuto 65 e Longo a far gridare al gol i tifosi giallorossi il suo destro incrociato però sfiora il palo alla destra del portiere poi la formazione di casa allenta la presa e così il Gela viene fuori dal guscio rendendosi pericoloso con un tiro dal limite dell'aria di Bruno che sorvola non di molto la traversa la pressione dei Biancazzurri trova sbocco però all'85esimo quando Kosovan pesca in area e Geana Candiano che in spaccata mette alle spalle di Inferrere il pallone che regala ai suoi il gol del definitivo 1-1 finisce così con l'Ige Virtus che conquista il 45esimo punto in classifica e scivola in terza posizione mentre il Gela si porta a quota 41 e rimane di fatto al quinto posto e a fine partita abbiamo raccolto le dichiarazioni rilasciate dai due tecnici purtroppo quando si crea e non si concretizza poi alla fine le partite restano in bilico e basta un'ingenuità e vieni come succede a noi in questo momento veniamo sempre puniti al 100% quindi alla fine l'elettore della partita è quello sapevamo oltretutto che recuperando 6 undicesimi dopo 15-20 giorni di non allenamenti potevamo avere negli ultimi 10-15 minuti delle difficoltà anche perché loro avevano la possibilità di mettere gente importante e fresca dentro al campo però non era successo neanche questo quindi purtroppo su questo lancio lungo abbiamo pagato questa cattiva lettura difensiva e l'abbiamo pagata al 100% rispetto all'andata credo che abbiamo fatto anche un paio di partite migliori dal punto di vista quando siamo stati in organico soltanto che rispetto all'andata purtroppo paghiamo tutto il singolo tiro in porta dell'avversario si trasforma in gol e c'è anche una motivazione perché ripeto quando una squadra così giovane non riesce ad andare per 95 minuti a pieno regime come sta succedendo in questo momento poi non ha la furbizia l'esperienza di alcune situazioni di gioco per addormentare la partita è un risultato molto positivo in un campo difficilissimo io credo che questa squadra l'Icea Virtus con a capo Beppe e Raffaele stanno facendo un grandissimo campionato sicuramente per noi era un bando di prova per misurarci con squadre che sono in posizione importante credo che il primo tempo siamo andati un po' in difficoltà su queste valle lunghe spizzicate di Liscano col vento contro si allungavano moltissimo e Isgro in profondità è un giocatore importantissimo secondo tempo credo che la squadra ha prodotto tantissimo credo che il risultato sia giusto queste due squadre oggi hanno dimostrato di meritare la classifica che hanno i tifosi credo che questo spettacolo poche città ce l'hanno devo fare complimenti per l'educazione per il rispetto che hanno avuto tra di loro è previsto per domenica 19 febbraio dalle 11 alle 13 al Palacossiga di Gela il primo appuntamento con il Prink Day Mini Basket 2017 si tratta di una festa regionale inserita all'interno del Centro Tecnico Federale Femminile l'iniziativa riguarda tutte le bambine e le ragazze nate negli anni 2005 2006 e 2007 accompagnate dai loro istruttori la vagina dello spettacolo è Incarnate il film in programmazione al Cineteatro Antidoto di Macchitella a Gela sono tre gli orari 17.30 19.30 e 21.30 ed in conclusione del nostro telegiornale vi informiamo che da giovedì prossimo Canale 10 sarà visibile sul numero LCN 815 e non più sul 612 vi consigliamo dunque da giovedì 16 febbraio di risintonizzare il vostro televisore abbiamo concluso anche per oggi grazie per averci seguito appuntamento alle prossime edizioni grazie per averci seguito a tutti grazie per averci seguito a tutti grazie per averci seguito grazie per averci seguito